È arrivato il tanto atteso contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni. Attenzione, non tutti purtroppo hanno diritto a questo contributo e il contributo non è legato alle vostre attività, ai codici Ateco. Invece il contributo è legato alla perdita del fatturato del 2020 sul 2019. Quando spetta il contributo? Il contributo spetta se nel 2020 si è avuto un calo del fatturato di più del 30% rispetto al 2019. Per fatturato si intendono i ricavi, come spiegato dall'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, attenzione, come si calcola questo contributo? Questo contributo si calcola per fatturato medio mensile, il che non vuol dire che viene dato un contributo su tutto il crollo del fatturato del 2020, ma viene dato un contributo sul calo medio mensile del fatturato, ossia sul crollo del 2020 rispetto al 2019 diviso 12. Questo contributo viene calcolato con percentuali diverse, le trovate indicate nella comunicazione e comunque negli allegati alla presente, e innanzitutto è importante ricordare che oltre i 10 milioni di euro di fatturato non verrà calcolato. In ogni caso, il contributo minimo garantito per le ditte individuali è di 1.000 euro. Il contributo minimo garantito per le società agli enti è di 2.000 euro, ovviamente sempre che ci sia stato un crollo del 30% del fatturato tra il 2020 ed il 2019. Attenzione però, non tutti hanno diritto a questo contributo. Infatti, i soggetti che sono dotati di partita IVA, ma che non erano attivi alla data del 23 marzo del 2021, non hanno diritto a chiederlo. Quindi, se avete aperto nel 2020 o nel 2021, ma non avete attivato l'attività prima del 23 marzo del 2021, non avete diritto a questo contributo. Se avete l'attività, che arriva ancora da anni precedenti, ma è stata cessata in Camera di Commercio per qualsiasi motivo, prima del 23 marzo 2021, non avete diritto a questo contributo. Se avete aperto nel 2020, avete diritto solo al contributo in misura minima. Se avete aperto nel 2019, concorreranno alla media dei mesi per il conteggio del contributo solo quelli in cui avete avuto l'attività attiva. Esempio, avete aperto ad ottobre e attivato l'attività novembre, concorreranno nel calcolo della media solo ed esclusivamente novembre-dicembre dell'anno 2019. Voglio precisare che per voi, per la nostra clientela, ci occuperemo noi di effettuare tutti i calcoli e di comunicarvi se avete o meno diritto a questo contributo. Restiamo a completa disposizione, ma ripeto e ribadisco, se il contributo vi spetta, provvederemo a presentare la richiesta, se il contributo non vi spetta, non presenteremo la richiesta e vi daremo opportuna comunicazione del fatto che non vi spetta. Un saluto a tutti.